commento l'evangelo di domenica 15 gennaio 2023 a cura di padre ermes ronchi il comando fontale il peccato del mondo è scegliere la morte è questo il comando originario fontale sorgente di tutti i comandi legge di dio è che l'uomo viva viene uno che era prima di me vedo con gli occhi di giovanni il venire infatecato di dio incalminato lungo il fiume dei giorni carico di ogni lontananza viene negli occhi di tutti gli uccisi come agnelli viene nei luoghi dove ancora si gioca il mio destino e quello del mondo giovanni vedendo gesù venire avere come lui occhi di profeta è possibile perché vi è un pizzico di profeta nei recessi di ogni esistenza umana ecco l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo ecco il piccolo animale sacrificato il sangue sparso la vittima ma di cosa è vittima gesù dell'ira di dio da placare con il sangue ma dio aveva già detto per bocca di isaia sono stanco dei tuoi sacrifici senza numero io non bevo il sangue dei tuoi agnelli io non mangio la loro carne isaia capitolo 1 versetto 11 ecco apparire invece col popolgimento di gesù in ogni religione l'uomo sacrifica qualcosa per dio ora è dio che sacrifica a se stesso per l'uomo e non chiede in cambio la vita del peccatore ma dalla sua anche a chi gliela toglie di cosa è vittima allora l'agnello di dio gesù è vittima d'amore scrive origine dio prima ha sofferto poi si è incarnato ha sofferto perché caritas est passio gesù è vittima della violenza padrone signora della terra che lui ha smascherato con l'amore e la violenza non ha sopportato l'unico che ne era totalmente libero e convocati i suoi adepti ha ucciso l'agnello il mite voce sogno di dio il peccato del mondo è scegliere la morte io ti ho posto davanti la vita e la morte scegli ma scegli la vita dice il deuteronomio capitolo 30 versetto 19 è questo il comando originario fontale sorgente di tutti i comandi legge di dio è che l'uomo scelga dio è un imperativo di libertà legge di dio è che l'uomo viva dio è addizione di vita supplemento d'umano nel vangelo il peccato è presente insieme assente gesù ne parla solo per dirci è perdonato è tolto è perdonabile sempre il cristiano testimonia il dio capace di dimenticarsi dietro una pecora smarrita un bambino un adultera capace d'amare fino a morire fino a risorgere testimonia il dio che per vincere la notte soffia sulla luce del giorno per vincere il gelo accende il suo suole per demolire la menzogna passa libero e disarmato fra le creature ecco colui che toglie il verbo è declinato al presente instancabilmente giorno per giorno continua a togliere a raschiare via il male dell'uomo il disamore che ci minaccia tutti che incapacità di amare bene chiusure fratture vite spente gesù che sapeva amare come nessuno guarisce il disamore del mondo ecco vi mando come agnelli a togliere con mitezza il male braccia aperte donate al mondo agnelli in mezzo lupi inermi e più forti di ogni erode buona riflessione e buona domenica grazie a tutti grazie a tutti